Ai nostri microfoni l'esponente di Al Centro per Teramo, Giorgio Di Giovan Giacomo, ha parlato della riunione che si è svolta venerdì sera tra i gruppi civici del centro-destra e con Fratelli d'Italia. La Lega non è stata invitata, anche se c'è un'apertura nei vostri confronti, nel senso che vi vogliono seduti a quel tavolo. Ma a lei tutto questo, Canzio, ha dato un po' fastidio, l'ha seccata un po'. No, nel momento in cui si dichiara che a Teramo vogliono parlare con il coordinatore provinciale, il coordinatore regionale, dimenticando che c'è un coordinatore comunale, quindi fondamentalmente non riconoscendo quel ruolo, commettono tantissimi errori. E uno dei primi è quello di non capire che in un partito, in un partito, esistono dei ruoli. Li rispetto io, li rispetterà anche chi viene da fuori da quel partito, quindi il coordinatore comunale ha un ruolo, se a loro dispiace se ne convingano, ma devono parlare con il coordinatore comunale, il quale poi si relaziona con i coordinatori provinciali e regionali, che hanno delegato il coordinatore comunale. Però a lei non va giù anche il fatto che poi si facciano delle dichiarazioni sulla cattiva gestione della passata amministrazione, in cui lei chiaramente ricopriva il ruolo di assessore. Sì, perché noi abbiamo sempre sostenuto che purtroppo quello che è successo non è bello, ci saranno dei motivi, non ci saranno, ma sicuramente non è stata una bella parentesi del centro-destra, però noi abbiamo detto, per evitare poi discussioni che poi si stanno, secondo me, cercando proprio di creare, su ciò che è stato, bisognava ripartire dai programmi. E invece si continua a dire che qualcuno che ha partecipato alla vecchia amministrazione negli ultimi quattro anni deve chiedere scuse ai cittadini. Io personalmente ritengo che forse qualche novità in città l'ho portata e non devo chiedere scusa, perché se poi andiamo sul livello delle scuse, allora le scuse iniziamo a chiederle un pochino tutti in base a quelle che sono le responsabilità. Io non credo di aver affossato la città di Teramo, qualcuno magari qualche errore in passato l'ha fatto e ne chieda a lui scusa. Ma lei quindi a questo tavolo ci si siederà o no? Ma assolutamente no, perché quando appunto bisogna sedersi a un tavolo con persone che comunque non rispettano quelli che sono i ruoli, che comunque ritengono di, come si dice, quando si gioca a carte, di dare alle carte loro, è evidente che è impossibile sedersi a queste condizioni.